Il Santuario della Madonna dell'Alto, spiritualmente affiliato alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma, sorge su uno dei monti più elevati delle Madonie all'altezza di 1827 metri. Per questa ragione, esso è il più alto Tempio Mariano d'Europa. Con precisione la datazione della sua fondazione signora, il piedistallo su cui poggia la sacra immagine della Madonna con il bambino Gesù, riporta l'iscrizione Santa Maria dell'Alto, 1471. Si hanno notizie che già nella seconda metà del Quattrocento la Chiesa esistesse. Gli storici Caruso e Lunetta attribuiscono la fondazione a San Guglielmo Mioffo da polizia generosa, eremita che visse nel 1300. Il popolo per cooperazione di diversi nobili e sacerdoti si prodigò all'abbellimento della Chiesa, all'ampliamento del santuario con la costruzione di un conventino adibito al romitaggio e alla ristrutturazione ed adeguamento dell'intero edificio sacro. Il popolo per cooperazione di un'intero edificio sacro. L'immagine della Madonna dell'Alto viene attribuita all'ampia produzione plastica di Domenico Gaggini. La scultura presenta delle vesti ricche di piegature che morbidamente si espandono. Il capo di Maria è inclinato verso il fanciullo divino che tiene in braccio. La madre dolcemente rivolge il suo sguardo al figlio che amorevolmente la guarda e con una mano le accarezza il seno parzialmente scoperto. La Madonna, regina del cielo, con una mano sorregge il creatore fatto uomo, con l'altra invece lo indica. La Madonna, regina del cielo, con una mano sorregge il suo sguardo al figlio che ha avuto un'intero edificio sacro. La Madonna, regina del cielo, con una mano sorregge il suo sguardo al figlio che ha avuto un'intero edificio sacro.